Lunedì, nel tardo pomeriggio nell'Aula Consiliare, si è tenuto il Consiglio Comunale Monotematico sul IV Policlinico Universitario, alla presenza dei deputati regionali Giuseppe Catania, Nuccio Di Paola e Michele Mancuso. Presenti anche il Direttore Generale dell'ASP Alessandro Caltagirone, il Presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro e i rappresentanti delle associazioni Caltanissetta Sicura, Noi per la Salute e Policlinico Universitario. Tutti solidari nel dichiarare che la città di Caltanissetta ha tutti i requisiti per avere il Policlinico e non intende mollare. Infine, il Consiglio ha votato all'unanimità un documento condiviso da tutti i gruppi consigliari. Il documento rappresenta la base di un atto per andare a deliberare negli altri 21 consigli comunali della provincia.